Per la divisione mezzi militari di Veco, leader internazionale nel campo dei veicoli protetti ad alta mobilità, la nuova pista di Vadena, che sostituisce quella alla zona industriale del capoluogo, rappresenta un ulteriore salto di qualità nelle tecnologie dei test di collaudo. La nuova struttura dispone di due rampe con quattro diversi gradi di pendenza, un pendio trasversale, un guado di tre metri di profondità, varie tipologie di pavimentazione off-road su un circuito totale di un chilometro e cento metri, oltre ad un'officina meccanica attrezzata. Il fatto di entrare in maggior collaborazione con la provincia, e questa pista è un esempio eccellente di questa collaborazione, apre la nostra azienda e apre un patrimonio di potenziali collaborazioni importantissime, sia sotto l'aspetto del sviluppo delle tecnologie, sia sotto l'aspetto occupazionale. Non poteva mancare una dimostrazione dinamica che ha visto i principali veicoli prodotti nello stabilimento di Via Volta-Bolzano percorrere il nuovo circuito e affrontare le diverse tipologie di test funzionali.